Il servizio biblioteche del comune di Modena presenta è solo una giornata qualsiasi in biblioteca. Alle 6 di mattina la bibliotecaria si sveglia all'alba per pescare i libri migliori. A mezzogiorno, per preparare il pranzo, la bibliotecaria acquista tanti libri prodotti con i migliori ingredienti. Alle 2 del pomeriggio è l'ora della siesta. La bibliotecaria ha sempre pronte storie rilassanti e riposanti. Alle 4 del pomeriggio non c'è niente di meglio di una limonata preparata dalla bibliotecaria e di un buon libro rinfrescante. Alle 6 di pomeriggio per l'aperitivo si servono libri deliziosi e finger food nel bar della biblioteca. Alle 8 di sera ormai è ora di cena e a Modena è d'obbligo mangiare i tortellini fatti in casa leggendo un bel libro. Alle 10 di sera la giornata volge al termine ma la brava bibliotecaria ha ancora in serbo una dolce storia della buonanotte. Il video è stato prodotto dalle bibliotecarie del servizio biblioteche del comune di Modena. Nessuna bibliotecaria o libro è stato maltrattato durante la registrazione di questo video.